Premier League Premier League, il Nev Kastle punta al quarto posto, ghiotta sciance sul campo del Brinkton Sogna in grande il Nev Kastle, dopo una partenza a rilento. . La sesta giornata di Premier League 2017-18 vede i Magpess impegnati nell'unico posticipo domenicale del weekend, in attesa che il Mondain League tra West Bromwich e Arsenal chiuda il programma, sul campo di un Brinkton che sembra pian piano ritrovarsi e adattarsi alla massima categoria. . 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 I migliori totalmente diversi da quelli del Vitality Stadium calcheranno oggi il terreno di gioco. Tra i pali Rian, difesa 4 con il rientrante Bruno a destra, dunque Duffi al centro, Soutner a sinistra, e centrocampo coppia centrale con Stephens e Proper, con Solly March verso la conferma a sinistra e Knochaert a destra. In avanti Pascal Gross a supportare l'unica punta Tom Eremed. Isiah Brown potrebbe tornare a disposizione, out sono invece Baldock, Kajal e Sidwell. Squadra che vince non si cambia, dall'altra parte, per Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo dovrebbe infatti riproporre lo stesso identico undici che ha avuto la meglio sullo Stoke City una settimana fa, effettuando anche rinunce importanti, siederanno in panchina Leggeune, Shelby e Gaile. Per quanto riguarda invece quelli che scenderanno in campo, il 4-2-3-1 si comporrà di Elliot in porta, con davanti a lui la coppia centrale formata da Capitan Lascelles e Clark, con Mbemba spostato a sinistra e Edlin a macinare chilometri sulla destra. In mezzo la coppia formata da Aiden Emerino, con Ritki e Datzu ha da girarsi sulla tre quarti. Unica punta José Lu, a supportarlo a Josep Erez. Out Mitrovic per squalifica e gli infortunati Dummette e Aedara. Calcio d'inizio alle ore 1700 italiane all'Amex Stadium di Brigton. Arbitro della sfida Andre Mariner.